Dalla luce rossastra nel cielo e sulle cime dei radici pressi oltre l'alto muro si capiva che il sole stava rapidamente tramontando al di là della città invisibile. Per un certo tempo anche l'intero cortile fu colmo di un riverbero rosso ma presto si svuotò come un vassoio quadrato rovesciato a poco a poco si riempiva dell'ombra del primo crepuscolo le guardie spinsero i detenuti nelle celle ma questi come un greggio riottoso e disordinato fuggivano a nascondersi negli angoli più remoti del cortile a nessuno andava di lasciare la luce del giorno e di rientrare in quelle celle affose non mancarono le grida e le botte svegliandosi presto fra peta alla pallida luce dell'alba che fuori doveva essere splendente volse lo sguardo alla sua destra dove la sera avanti sera coricato il nuovo venuto la prima cosa che notò fu un piccolo libro rilegato in pelle gialla una forte calda sensazione di gioia gli percorse tutto il corpo era un frammento del perduto autentico mondo degli uomini che era rimasto lontano fuori da quelle mura bello ma incerto come una visione sbatté gli occhi ma il libro rimaneva al suo posto ed era proprio un libro solo allora peta spinse oltre lo sguardo e vide che il libro era ingremba un uomo che stava per metà sdraiato e per metà seduto appoggiato alla sua valigetta era l'uomo della sera avanti accanto a lui una borsa da viaggio di pelle chiara lavorata sotto di lui una coperta scura magnifica calda e soffice solo a guardarla come una leggera e preziosa pelliccia fra peter per la sua origine e per la sua educazione vivendo nei ristretti limiti delle sue modestissime necessità non aveva mai badato molto al valore e alla fattura delle cose che vedeva intorno a sé né attribuiva a esse grande importanza ma queste erano cose che non poteva non notare mai aveva visto oggetti di uso comune quotidiano così finemente lavorati e fatti con materiale tanto appreggiato e se fosse rimasto in bosnia e il destino non lo avesse portato in quella corte non avrebbe mai saputo né potuto credere che esistessero davvero lo sguardo passa oltre il viso dell'uomo fu una nuova sorpresa un viso giovane dedicato leggermente gonfio bianco pallido del pallore di chi sta sempre chiuso in camera suo diverso da tutto quello che ci si poteva aspettare in quel luogo incorniciato da una fulva barbetta ricciuta di una decina di giorni e da baffi spioventi un po più chiari su quel viso pallido spiccavano scure come una ferita livide come quelle di un malato due grandi occhiaie in cui brillavano due occhi azzurri umidi e lucidi di febbre a fra peter che in vita sua aveva visto molti malati d'ogni specie fu di colpo tutto chiaro non proprio quelli ma occhi simili lui li aveva già visti ci sono persone che hanno paura o vergogna di qualcosa che desiderano nascondere qualcosa e proprio questo cercano continuamente e proprio per questo cercano continuamente di attrarre e trattenere col proprio l'altrui sguardo nel desiderio di legarlo ai propri occhi e così non permette di andare oltre e di esaminare i tratti del loro viso e le altre parti del corpo o il vestiario o il vestito che indossano senza abbattere le palpebre il giovane osservava con aria interrogativa ma tranquilla la faccia larga aperta delle frate con i suoi folti baffi neri e i grossi placidi occhi marroni molto distanziati tra loro qualcuno grida da qualche parte due detenuti sono venuti alle mani e mi fa tornare in me mi scuoto accanto a me non c'è nessuno la mia sigaretta si è spenta e il braccio è ancora alzato ma allora ho parlato da solo l'idea della mia pazia mi atterrisce come l'idea di una malattia contagiosa penso che lì anche l'uomo più sano col tempo finisce per far medicare e avere allucinazioni decido di non cedere mi concentro per difendermi mi sforzo di ricordare chi sono e che cosa sono da dove vengo e come sono capitato la mi ripeto che fuori da quella corte c'è un altro mondo un mondo completamente diverso che quello che vedo non è tutto non è eterno e faccio di tutto per non dimenticarlo e tenermi stretto a questa idea ma sento che la corte simile a un gorgo trascina l'uomo in un oscuro abisso non è facile nemmeno per l'uomo più duro passare la giornata e aspettare la sera con simili pensieri e la giornata non porta né cambiamento né speranza solo haim quando viene haim viene ogni giorno ma con lui non può esserci vero dialogo il poveretto sprofonda sempre più nei suoi oscuri racconti e nelle sue paure immaginarie invano fra petar gli chiede ogni volta se ha saputo qualcosa di camilla haim non sa nulla e non se ne interessa più all'aria di essersi dimenticato del giovane di smirne adesso ribolle tutto di nuove paure e accuse che racconta con vivacità e abbondanza di particolari come se le avesse sperimentate tutte di persona ma che subito dopo dimentica con altrettanta rapidità pare che il mondo intero non abbia per lui abbastanza brutte notizie iniquità e sofferenze haim rimugina tutto rapidamente dentro di sé racconta e dimentica si avvicina e dopo un completo rituale delle sue misure precauzionali si siede accanto all'unica persona alla quale possa credere qui dentro fra petar cerca di essere allegro e gli batte una mano sulla spalla beh haim caro il mio scaccia pensieri che c'è di nuovo ma haim lo guarda con lo sguardo fisso e tetro dei suoi occhi non perfettamente allineati poi quasi non avesse sentito le sue parole dice con voce cupa senta non so se lei ci ha fatto caso ma a me negli ultimi tempi mi capita sempre più spesso di pensare che qui non ci sia una sola persona sana e con la testa a posto mi creda tutti malati e matti sia le guardi sia i detenuti sia le spie e qui sono quasi tutti spie per non parlare del matto più matto di tutti caragozza in ogni altro paese del mondo quello lì sarebbe da tempo in manicomio insomma sono tutti matti tranne lei e me la sua voce tremava questo spinse fra petar ad alzare gli occhi e a guardarlo meglio haim era ancora più magro del solito aveva la barba lunga come sempre e gli occhi arrossati lacrimosi come se fosse stato a lungo vicino a un caminetto fumoso la testa gli tremava leggermente la sua voce era sibilante e soffocata tutti matti parola mia fra petar provò un senso di disagio e un leggero brivido gli percorse la nucca per un attimo ebbe davvero l'impressione che la corte del diavolo non avesse alcuna via d'uscita grazie a tutti